Troppo caldo in nord Europa ed ecco che H&M, dopo dieci mesi consecutivi di crescite a doppia cifra, registra un'inchiodata nelle vendite. Ad agosto la catena di negozi d'abbigliamento ha registrato soltanto un flebile più 1%. Si tratta della peggiore performance da marzo del 2013. La calura estiva al di sopra della media ha colpito in particolare il mercato casalingo svedese, quello britannico e quello tedesco. In Germania le vendite complessive di vestiti sono calate del 16% il mese scorso. Per H&M, dicono gli analisti, significa una frenata dell'8%.